Sofia Loren riunisce la famiglia a Roma per i suoi 90 anni. Il maxi evento si terrà venerdì 20 settembre. La location resta ancora top secret. Sofia Loren si prepara a festeggiare i suoi 90 anni venerdì 20 settembre a Roma. A quanto apprende la DN Kronos il maxi evento sarà strettamente privato e il ricevimento si svolgerà in una location ancora top secret. La festa, oltre a celebrare il compleanno dell'icona del cinema mondiale sarà anche l'occasione per una reunion familiare dove potrebbe esserci, tra gli altri familiari, la sorella dell'attrice, Maria Scicolone, mamma di Alessandra Mussolini. Negli ultimi giorni Sofia Loren ha rilasciato una lunga intervista a Natalia a Spesi della Repubblica. Tra suoi film preferiti in cui ha recitato, l'attrice ha ricordato la ciociara e Una giornata particolare. Il suo sguardo va oggi alle giovani donne ed è carico di speranza. Gli ostacoli ci sono e io ricordo quanti ne siano sorti intorno a me per impedirmi di essere felice. Io ogni cosa l'ho combattuta fino a quando me ne sono liberata. Eppure dalla mia giovinezza oggi le donne sono andate molto avanti, quasi in cima. Kamala Harris in America e Von der Leyen in Europa sono esempi di donne che non solo vivono secondo le loro visioni di progresso e uguaglianza. Ma la loro missione è trasformare queste battaglie in realtà per il beneficio di tutte le donne.